Io sono la fidanzata di un assessore, sono la fidanzata di un assessore. Alla fiera del tufello, per tu scudi, per patata la madre scippo, e venne la catena che col corpo patata, che per tu scudi la madre scippo. Alla fiera del tufello, per tu scudi, per patata la madre scippo. L'ex amministratore delegato di Atac, Adalberto Bertucci, è stato licenziato dal sindaco Alemanno. Nonostante il licenziamento, è rimasto attivo il contratto di consulenza per un valore di 219 mila euro. Io mi occupo di mobilità, ho la delega appunto alla mobilità. Non riteniamo di aver reagito nella maniera giusta. L'assessore invoca i temi della legalità e della trasparenza. L'assessore invoca i temi della legalità e della trasparenza. E siamo certissimi che i cittadini apprezzeranno anche e soprattutto l'aumento della qualità di questo servizio fin dal prossimo anno. E io mago! Io mi occupo di mobilità, ho la delega appunto alla mobilità, quindi il problema del traffico, che è un problema grosso per la città di Roma. E io mago! Contestualmente io penso che sia sempre più necessario spingere l'acceleratore sul tavolo della legalità. La legalità dobbiamo avere tolleranza a zero.